Ciao ciao a tutti ragazzi, mi sono arrivati tantissimi costumi nuovi che adesso vi farò vedere. Allora ragazzi, come avete notato, sto di nuovo in collaborazione con Capri, cioè una marca di costumi bellissima che ha dei costumi veramente favolosi. Se volete dare un'occhiata ai costumi che ho scelto, lascerò il link qui sotto nell'info box. Lascerò anche un codice per avere lo sconto del 10% con anche tutti i dettagli qui sotto sempre nell'info box. E va bene ragazzi, adesso vediamo il primo costume. Ok, questo è il primo costume ed è veramente carinissimo ed è veramente troppo bello. È in bianco e nero e come vedete ha questo taglio in mezzo, è favoloso. Poi sembra diciamo un costume a due pezzi ma in realtà è un costume intero ed è troppo bello. È anche molto elegante, mi piace troppo. Ecco qui il secondo costume. Eccolo qui, mi piace troppo, è troppo carino. Soprattutto con queste belle foglie. All'inizio, vabbè, è un po' complicato da mettere, però poi è facile, basta incrociare il nastro. E' veramente mi piace tantissimo. Poi mi sarà veramente benissimo quando sarò più abbronzata. E' molto carino. Poi mi piace molto anche lo stile del nastro del fiocco dietro alla schiena, è favoloso. Allora, questo costume qua è bellissimo pure per la sua fantasia, con tutti questi bei disegnini. E' troppo carino, mi piace tantissimo. Poi anche come taglia mi sta veramente molto bene, come taglia. E poi, io, questi costumi, volevo prendere la XS, però non ce l'avevano e quindi ho preso solo la S. Però mi vanno bene lo stesso come taglia. E sì, comunque questo costume è troppo bello. Mi piace davvero troppo il suo stile. È molto particolare. Ecco qui. E anche questo costume è molto fantasioso. Mi piacciono molto questi nastri qui avanti. E anche qua è abbastanza aperto dietro. Ed è molto bello. Eppure stile marinaro. Con questo blu e bianco e queste strisce bellissimo. E' molto particolare e secondo me, infatti, andrebbe indossato benissimo in barca. Perché ha uno stile molto marinaro e bellissimo. Ecco qui, per finire, l'ultimo costume. Anche questo è troppo bello. Mi piace troppissimo questo fiocco. Ed è monospalla. E' veramente troppo bello e semplice. Con questo bianco e questo azzurro troppo fine. E' veramente pompastico. E sì, anche questo è veramente molto elegante e bello. E ragazzi, spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video. E che vi siano piaciuti anche i miei costumi. E ricordatevi che qui sotto nell'info box ci stanno tutti i link. E se vi è piaciuto questo video, fate un bellissimo like. E se volete, iscrivetevi a questo canale. Ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima, ragazzi.